Dal 31 maggio al 5 giugno 2011 la dodicesima edizione di Primavera dei Teatri a Castrovillari rinnova la propria volontà di tener fede alla vocazione esplorativa nei confronti degli artisti emergenti rivolgendo il proprio sguardo alla nuova drammaturgia e alle compagnie di recentissima formazione provando a intercettare anche i più piccoli e periferici segnali vitali sparsi nella penisola. Non perde questa vocazione, continuiamo a scandagliare quello che di nuovo avviene in Italia senza fermarci anche su delle bellissime scoperte fatte negli anni precedenti ma cercando sempre di vedere cosa si muove di nuovo, cosa c'è di stimolante, quali sono i nuovi percorsi che si sviluppano nel teatro contemporaneo italiano e anche quest'anno nonostante i tagli, nonostante tante difficoltà riusciamo ad avere in sei giorni di programmazione otto prime nazionali per cui il festival si attesta come un luogo del contemporaneo dove gli artisti hanno voglia e si sentono tutelati nelle loro prime nazionali e dove la critica e gli operatori di tutta Italia arrivano a Castrovillari e vedono quello che avviene appunto di nuovo nel teatro italiano. Un filo rosso preciso e conduttore non c'è tra gli spettacoli, c'è tanta attenzione a quello che avviene intorno a noi per cui vedrete spettacoli ambientati nella Napoli di oggi sommersa dall'ammunizza come dicono loro stessi e così come ci saranno spettacoli che riflettono su quello scuro lato del Vaticano che si chiama pedofilia. Vedremo tantissimi spettacoli che appunto si pongono dei problemi e chiedono di riflettere allo spettatore su delle cose che cozzano insomma con un'andatura serena della realtà dell'oggi. Qualche nome? Qualche nome mi piace dire che arrivano Ricci e Forte che sono gli enfant terribile della nuova scena teatrale contemporanea italiana. Un grandissimo ritorno è Vincenzo Pirrotta da Palermo che racconta questo spettacolo Sacre Stie proprio sui rapporti, sul rapporto di pedofilia all'interno della chiesa. inizieremo il festival il 31 con la compagnia Punta Corsara da Napoli che ci presenta una farsa di Moliere, il signor de Pursignac però completamente ricostruita nella Napoli di oggi, una cosa molto divertente, molto brillante che naturalmente parte dalla commedia dell'arte, parte da Moliere ma trova un filo conduttore, un filo comune anche nella commedia dell'italiana. La rassegna dedicata ai nuovi linguaggi della scena contemporanea si svolge con il contributo dell'Unione Europea, della Repubblica Italiana, della Regione Calabria, della Provincia di Cosenza, dei Teatri Calabresi Associati e del Comune di Castrovillari e dell'Enteparco Nazionale del Poldino. L'amministrazione comunale di Castrovillari assicura il sostegno all'iniziativa importantissima relativa a Primavera dei Teatri sulla base della funzione educativa che queste manifestazioni svolgono unitamente all'aspetto spettacolare che fa riferimento anche all'azione educativa che da anni tale espressione letteraria svolge. Inoltre il piacere di portare avanti significati che affondano le radici nell'antichità attraverso anche Alessi di Turi, il celebre commediografo che è vissuto al tempo della Magna Grecia e che ha operato a Sibari. È un sodalizio che si consolida e si rinnova. Noi l'abbiamo fatto ben volentieri, ormai il parco non finanzia più iniziative a perdere ma ha scelto questo tema dei grandi eventi. Primavera dei Teatri è uno dei grandi eventi di questo territorio, non solo della città di Castrovilla e poi questo sodalizio con la compagnia Scena Verticale credo che sia anche per il parco un'occasione, un'opportunità perché avere qui tanta stampa specializzata delle più grandi testate giornalistiche italiane significa anche far conoscere questo territorio che proprio in questi giorni ha festeggiato dei risultati eccellenti sul piano della ricettività turistica e delle presenze turistiche.